Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video, cominciamo la serie su Ultimate Team dopo il primo live fatto quando avevo ancora l'early access sulla versione all gen cominciamo il vero e proprio Road to Division 1 da PS4 con i video classici, quindi un paio di partite per volta, a volte magari anche tre chiaramente soltanto con gli highlights, i momenti più belli, i gol eccetera allora sono in Division 9, questa è la situazione, 9 punti dopo 5 partite, le prime 2 sono state sconfitte, poi 3 vittorie di fila ora mi trovo a dover fare praticamente 4 punti in 5 partite, non sembra impossibile ma con foot non si può mai dire chiaramente il mio obiettivo è vincere il titolo perché la promozione senza vincere il titolo mi scocerebbe alquanto la mia formazione, ora chi mi segue su Spazio Games e chi ha seguito lo streaming l'avrà sicuramente già vista la formazione perché l'ho mostrata nel live che ho fatto appunto giovedì sera e non è cambiata tranne per un acquisto soltanto allora questa è la formazione, intanto esce acciaccata all'ultima partita con un rosso a pepe tanto per cambiare il contratto scaduto a Mandzukic, allora la formazione è comunque questa, ecco vi faccio vedere subito la novità ho deciso questa settimana di investire su Riccardo Rodriguez, non l'ho ancora mai provato vedete che l'ho acquistato per 29.000, ho messo da parte tutti i risparmi della settimana tutti gli risparmi che ho guadagnato giocando, vincendo divisione offline eccetera per arrivare ad acquistare questo giocatore prima che si alzi il prezzo perché credo che quando uscirà poi settimana prossima il nuovo Team of the Week possa salire il prezzo ho fatto già la stessa cosa con Menez che è già salito intorno ai 50.000 quindi se lo venessi adesso già farei comunque 15k di Brutvalenza ma spero che salga di più insomma sto facendo questa cosa con gli inform che riesco a prendere e che ho avuto comunque buoni ecco Rodriguez è un terzino sinistro nella Bundesliga a parte lui c'è soltanto Alaba quindi soltanto Alaba è più forte di Rodriguez e Alaba costa tanto quindi spero che nel futuro possa salire magari nelle prossime settimane vedremo, chiaramente per la mia Liga non serve però è un investimento che ho voluto fare quindi per il momento lo tengo qui, ripeto non l'ho ancora provato magari lo proviamo anche in qualche partita però ora facciamo la formazione la formazione intanto la vedete, ripeto, chi l'ha già vista, chi ha seguito su spazio già l'ha vista è praticamente la stessa per gli altri questa è la formazione allora dunque centrali difensivi mettiamo, no, la coppia d'Atletico no perché vedo che sono molto stanchi tutti però stanco per stanco mi tengo godina allora almeno fa intesa bene con Miranda poi Carval, anche abbastanza stanco, qui mettiamo Juanfran si oddio no, Juanfran ha 64 di forma, no, perché era fuori cosa e non si è riposato allora no, niente come non detto vabbè, gli diamo una forma fisica, dai una possiamo anche sprecarla per lui eh, forma fisica gli diamo un più 20 di forma fisica, dai domanda 84 almeno per giocare sta partita poi gli metterò Carval poi di qua abbiamo Siqueira 86 però in realtà io ho comprato anche Jordi Alba cosa che ho detto anche nel live di spazio vi starete chiedendo quanto avrò speso per fare questa formazione in realtà è molto economica ragazzi a parte Jordi Alba che l'ho pagato tanto e chiaramente gli informi, vedete, vi faccio vedere al volo Miranda ha pagato 45 Rodrigo ha pagato 32 eh Jordi Alba ha pagato 20 eh, ecco qua insomma gli altri costano tutti poco di Pochettira costa 3,9 eh, c'ho anche Busquets che l'ho pagato 4 che so, Piquet per dire pagato 5,4 costano tutti sotto i 10 ampiamente sotto i 10 Hernandez pagato 5 insomma tutti giocatori abbastanza economici adesso giocheremo con Cicerito comunque davanti ok poi è il caso di rinnovare il contratto anche a Delufeu però perché Rodrigo lo ha fatto riposare oh, poi vedete che anche Chedira è molto stanco e anche Cerci è stanco quindi mettiamo qui mettiamo Rakitic Griezmann per il momento lo lasciamo vabbè, mettiamo i centrocampisti di servo mettiamo Tiago Banega, dai meglio meglio di niente intanto c'è qualcuno che suona una trombetta non so il motivo sinceramente comunque ok, dai giochiamocela così e via ecco qua la formazione dell'avversario una formazione assolutamente di tutto rispetto una Premier League molto pericolosa perché c'è Sterling perché c'è Diego Costa soprattutto anche Felleni The Sten Art in Port eh, non male non male assolutamente questa Premier scuola che si chiama Negri vabbè oh, intanto voglio subito rispondere a una domanda che già so qualcuno mi farà alla quale ho esposto mille volte nel live su Spazio Games come hai fatto a fare tutti questi crediti ovviamente non c'è nessun trucco rosco non ci sono sì di crediti di mezzo stavolta eh perché comunque Sonic Arts sapete insomma com'è la storia ban, chi è quindi io anche quel discorso lì l'ho messo tutto di stand by per il momento eh semplicemente le ho fatti a parte giocando una marea di partite se guardate le classifiche intanto attenzione se guardate le classifiche ho tipo quasi 130-40 mila crediti guadagnati soltanto giocando e quindi capite bene che eh che è grazie a questo che ho fatto tutti questi crediti ma soprattutto mi raccomando all'inizio sbloccate sempre i bonus del catalogo Electronic Arts quindi quelli che vi danno più crediti per ogni partita che sono fondamentali e altro consiglio fondamentale per fare tanti crediti all'inizio in maniera abbastanza facile è fare le divisioni offline che sono facili da vincere soprattutto la prima metà le prime 5 diciamo le ultime 5 più che altro dalla 10 alla 5 sono molto facili e vi danno un sacco di bei crediti praticamente senza sforzo quindi questo è il mio consiglio ed è il modo con cui io ho fatto tanti crediti io ancora ho giocato anche poco anche poco online ho giocato soprattutto offline facendo quelle divisioni lì ma adesso andiamo in cronaca Barclay pallone lungo cercare Diego Costa Godin lo va a chiudere Diego Costa lo supera Diego Costa il tiro il palo e poi Miranda aia è partito Sterling Godin non gli sta dietro Sterling Sterling Godin lo va a chiudere in qualche modo la palla si impenna e poi Miranda la mette fuori c'è Barclay Barclay prova il sinistro anzi bravo no vabbè porca puttana cosa ha fatto bravo qui mi spiace perché bravo mi ha sempre fatto grandissime parate di esordire nei video con questa vabbè non è il top comunque vabbè ci può stare dai Miranda verticale per Hernandez Hernandez per Griezmann ancora per Hernandez il cicerito Hernandez Art non è finita ancora Griezmann contro cross Hernandez la devia Rakitic Ivan Rakitic pareggio immediato immediato subito Rakitic vediamo l'azione questo cross di fine di Griezmann non so se la tocca o forse la finita soltanto Hernandez c'è Rakitic comunque pronto sul secondo palla ribadire al volo 1-1 subito grande apertura per Griezmann che però lancia dentro Banega Banega il colpo di testa oddio Ever Banega sta per fare un golasso mamma mia un colpo di frusta con la testa la palla che sbatte sulla traversa con deviazione del portiere forse sì perché sarà corner allora Rakitic cross cross al centro Godin Diego Godin 2-1 va infatti si è sviolinata Godin bravissimo rivediamo inserimento col tempo perfetto le bestemmie di Art gran cross di Rakitic tra l'altro è stranissimo perché io non segno quasi mai su angolo invece grandissimo inserimento di Godin che batte il portiere 2-1 molto spazio tra le linee Thiago vede dentro Griezmann 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 palla sul destro Griezmann vicinissimo al 3-1 in apertura una fiammata della roba loca palla per Juanfran avanza Juanfran vada solo non c'è nessuno in mezzo Juanfran deve attendere l'inforza allora sta al centro Juanfran Juanfran prova a servire dentro Hernandez al centro ha deviazione e questo è rigore questo è rigore questo è calcio di rigore una brutta entrata scomposta è inutile peraltro ai danni del Cicerito ed è calcio di rigore rivediamo un attimino ma direi che c'era tutto guardate che entrata che ha fatto assassina proprio il pallone neanche lo vede da lontano è anche un'entrata stupida perché da lì potevo fare ben poco quindi calcio di rigore Cicerito si presenta ma vediamo se batte lui vediamo un attimo i rigoristi Hernandez 80 sì direi che è il suo parte il Cicerito mamma che gol la mette all'angolino Cicerito Hernandez e poi da un pizzo nella bandierina bene così 3-1 Diego Costa prova il tiro bravo attenzione a Sterling la rimette in mezzo Tiago allontana non è finita Fellaini Fenelli prova il tiro deviato da Tiago Art uh rischio di Art che sbaglia Raghi di Cercupera Hernandez 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 palla sul sinistro Hernandez il sinistro palla fuori che occasione stupata dal Cicerito qui lancio per Diego Costa Diego Costa allunga il pallone Diego Costa il tiro bravo in angolo che gran riflesso qui Diego Costa dentro Godin Godin attenzione bro si allunga il pallone Jarvis Jarvis lo mette dentro bravo no peccato che gol di merda di Nastasic che gol di merda veramente tra l'altro questo si è messo in attacco totale se Nastasic era lì se la pone Juanfran ecco così il video Juanfran Juanfran vuole il cross ecco sul secondo palo Raghi ci si butta poi Tiago Tiago tenta il pallonetto oddio Art Tiago stava per fare il gol della vita che si ferma si accentra Griezmann cerca un brutto pallone finisce qui finisce qui e siamo a un punto dalla vittoria del titolo e comunque siamo già matematicamente in divisione 8 l'intro è un po' sofferta ma meritata alla fine a un po' sofferta che c'è un po' sofferta a un po' sofferta che c'è un po' sofferta che c'è un po' sofferta che c'è un po' sofferta a un po' sofferta che c'è un po' sofferta ok intanto temo che le immagini del primo tempo non si siano registrate correttamente o ci sia stato qualche problema perché mi si era bloccato il programma spero che rimangano almeno le immagini poi ci metterò una musica sotto casomai se non c'è la voce perché è stato veramente un bel primo tempo ma la partita non è ancora finita Griezmann Griezmann Maurizio lo ferma Piqué pallone dietro e poi bravo di 2 in dribbling qui ha fatto una cappellata quasi recuperava Pepe peccato dietro da Rui Patrizio lancia male serve De Lufeu pallone per Rakitic Rakitic allarga su Mandzukic Mandzukic dentro ancora per Rakitic e se non sbaglio sono 3 di Rakitic non vorrei dire una cazzata ma credo siano 3 per Ivan Rakitic eh sì perché uno l'ha fatto Griezmann gli altri 3 sono tutti di Ivan Rakitic 4 a 1 Griezmann Rodriguez prova a spingere Rodriguez se c'entra ancora Rodriguez Rodriguez vince ancora in palla Rodriguez palla sul sinistro poi si porta sul destro Rodriguez prova col destro Rui Patrizio gli nega la gioia del gol all'esordio anche Riccardo Rodriguez ha provato a partecipare alla festa dalla bandierina va il solido Rakitic il cross verso Piqué di testa Piqué Rui Patrizio lo viene lì e Mandzukic 5 a 1 Rakitic Banega avanza Banega lancia cercare di trovare Mandzukic che apre in fascia per Delufeo ma Delufeo avanza con un gran controllo il cross verso Mario Mandzukic che fa 6 a 1 doppietta anche per lui finisce qui ce ne andiamo in divisione 8 vincendo direttamente la 9 ora vediamo il premio che ci verrà assegnato esulta Mandzukic come se avesse vinto la coppa dei campioni ed ecco qua i crediti che chiaramente sono un po' pochi perché siamo ancora in divisione basse comunque sono più o meno 3000 non so quanti esattamente ma credo circa 3000 crediti di premio io vi ringrazio per aver seguito questo video ci vedremo con i prossimi episodi mi spiace se ci sono stati problemi nella registrazione spero di no ma vedrò ora in fase di montaggio di capire qual è stato il problema e se si può risolvere io intanto vi ringrazio lasciate un like se il video vi è piaciuto un dislike se non vi è piaciuto e ci vediamo con il prossimo video ciao a tutti